E' la festa del Beato Luigi Boccardo, sacerdote della Diocesi di Torino, costruttore del bel santuario dedicato a Cristo, Re dell'Universo. Un piccolo gioiello nella città di Torino, un po' nascosto come le violette, ma tanto prezioso. E' stato costruito con la vera passione del teologo, nei minimi particolari. Potrete vedere veramente quanta passione ha messo Padre Luigi a costruire questo santuario. Si trova in lungo d'ora Napoli, 76, e potrete venire a visitarlo quando vi farà piacere. Questo santuario, oltre ad essere chiesa, è sostenuto dalle suore di San Gaetano e animato dalle suore non vedenti, figlie di Gesù Re, ramo contemplativo della nostra congregazione. E si dedicano soprattutto all'animazione liturgica e alla preghiera. Queste nostre sorelle, che vivono proprio all'ombre di questo santuario, volute appositamente da Padre Luigi, perché desiderava che il santuario non solo fosse costruito da mura, ma ci fossero persone vive per la preghiera, per la lode, per la contemplazione. Ecco, noi possiamo gioire di questo prezioso santuario, dove ogni giorno veniamo alla partecipazione alla messa alle ore 17 e invitiamo chiunque a farsi presente per conoscere tutti i particolari di questo santuario così tanto caro. La Sacra Persona di Gesù viene rivestita con la Cazzola, pianeta integrale, a simbolizzare l'interlotta continuazione, mediante la Santa Messa, del sacrificio del Calvario. E passiamo ora al grande mosaico del Catino Absidale. E' una speranza che parla a noi uomini e donne contemporane. E' una speranza che parla a noi uomini e donne contemporaneamente a noi uomini e donne contemporaneamente a noi. E' una speranza che parla a noi uomini e donne contemporaneamente a noi. E' una speranza che parla a noi uomini e donne contemporaneamente a noi uomini e donne contemporaneamente a noi. E' una speranza che parla a noi uomini e donne contemporaneamente a noi. E' una speranza che parla a noi uomini e donne contemporaneamente a noi. Alleluia Don Luigi muore a Torino il 9 giugno 1936 e tre giorni dopo viene celebrato il funerale proprio all'inizio nella chiesa da lui venuta ed eretta. Si calcola che abbia preso parte alla cerimonia oltre 300 sacerdoti ed una folla in mezzo di fedeli. Era a convinzione generale che fosse morto un santo. Alleluia